Gentili telespettatori, buona giornata. La rivelazione di Zacchi. Ecco come sono tornato davvero in Italia dopo aver rifiutato il volo di Stato. Ma attenzione, ha rifiutato il volo di Stato, avrebbe risparmiato un bel po' di soldi. Lui è venuto mi sembra con qualche altro familiare, pertanto avrebbero risparmiato un bel po' di soldi. Anche se io avendo visto la macchina che ha la famiglia Zacchi, che è una Nissan Altima, ultimo modello, avere la Nissan Altima in un paese come l'Egitto è tanto. Attenzione che in un paese dove l'economia è di un certo tipo, avere una macchina nuova, una berlina medio alta nuova, vuol dire essere economicamente benestanti. Quindi Zacchi si è potuto permettere di rifiutare l'aereo di Stato. Fosse stata un'altra persona, magari avrebbe detto vabbè perché i soldi non ce li ho, non sappiamo dove prenderli, accettiamo. Quindi lui ha detto di no. Ma il problema non è che ha detto di no al volo di Stato. Dice vabbè torno quando voglio io, indipendente, scendo all'aeroporto che voglio io per evitare la Meloni. Il problema è proprio che lui non ha ringraziato, una gran parte degli italiani, la maggioranza, ce l'ha con questo Zacchi, non perché ha rifiutato il volo di Stato, è che siamo permalosi. Ah no, devi accettare. Ma chi se ne frega, il problema è che non ha mai pronunciato il nome di Giorgia Meloni, perché ha paura di perdere la poltroncina con la sinistra. Dopo l'intervento in televisione a Inonda, talk show di La Sette, condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, lui fa un'intervista a Repubblica. Ma dai, come mai non la fa su Libero, il Tempo, il giornale, la fa proprio su La Repubblica, organo di informazione e di propaganda sinistra? E vabbè, insomma, è furbo, noi ne abbiamo di furbi in Italia, vedi in Parlamento quello delle cooperative, come si chiama quello lì? Il paladino dei braccianti, ce n'è di furbi, perché attenzione, oggi per diventare parlamentare non è che serva il curriculum, esperienza, inglese fluente, di sapere tre lingue, no, per andare in Parlamento oggi serve che tu sia di quelli, devi essere un arrampicatore sociale, oggi per arrivare in Parlamento devi essere un arrampicatore sociale, non importa se hai studiato o no, se sai parlare o no, non importa se hai curriculum o no, l'importante è essere capace ad arrampicarti socialmente, essere un po' più furbi degli altri e avere un po' di fortuna e in questo caso Zacchi ha la visibilità e sta cercando di sfruttare in tutti i modi la visibilità per finire in politica. Beh, finire in politica voi lo sapete, quando finisci in politica non è che ti distruggi dal lavoro tutti i giorni, non è che ti alzi alle 5 del mattino, fai due ore di viaggio per andare a Milano o a Roma in treno in metropolitana, poi vai a timbrare il cartellino come fantozzi, no, non aiutatelo, sennò è squalificato e voi correte verso il cartellino che è in fondo al corridoio, con gli altri che ti incitano, dai, 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 timbri alle 7.59 e 58 secondi, sennò ti portano via un quarto d'ora di lavoro. Ecco, quando fai il politico poi comincia la pacchia, comincia la pacchia e lui vede già la pacchia in Italia, eh sì, eh sì, ce ne sono tanti che... Comunque, lui dice che il carcere non ha cambiato nulla, non farò passi indietro, voglio riprendere i miei studi in Italia proseguendo il mio percorso accademico nell'ambito dei diritti umani, miro a un dottorato, lo sto preparando ma dovrò competere con ottimi colleghi. Ma anche lì il dottorato lo facciamo senza sapere una parola d'italiano? Bah, non so io, bah, beh, insomma. Voglio vivere fra Egitto e Italia, i miei due paesi, battendomi per chi ne ha bisogno, userò la mia visibilità per parlare in nome di chi non può farlo. Attento Zacchi, guarda che l'Italia è un paese democratico dove se insulti ti dicono ma no, è critica, ma mica è un insulto. L'altro tuo paese, come dici l'Egitto, una volta ti ha tirato fuori i lameloni, una seconda volta non ci riesce più perché prima di tutto sei un ingrato, prima di tutto. Seconda cosa, guarda che le leggi e la democrazia nel tuo paese non sono cambiate. Se cominci a scrivere di nuovo qualcosa o a fare i commenti contro il tuo paese, appena metti piede e scendi dall'aereo ti arrestano per aver fatto vilipendio alle autorità. Insomma, la grazia non è che ti esula dai reati del tuo paese e ricordati che la grazia non vuol dire che sei esente, che adesso o che il tuo paese è diventato improvvisamente una democrazia modello. La meloni ti ha salvato una volta ma vista l'ingratitudine la prossima volta la meloni potrà dire eh mi dispiace ecco quindi fai come vuoi ma stai attento ecco insomma devi essere un po' utilizzare eh insomma. E poi alla domanda del gran rifiuto dice ma io sapete come sono arrivato in Italia? No, come sei arrivato in Italia? A piedi non è possibile. Dice nessun attivista indipendente può accettare qualcosa da un governo, nemmeno quando si tratta di offerte generose. E poi non sono nemmeno un cittadino italiano, non potevo certo salire su un volo pagato dai contribuenti. Sono venuto in classe economy pagando di tasca mia. Una scelta che rifarei. Voi sapete cos'è la classe economy? Sull'aereo c'è l'economy e la prima classe. Qual è la differenza tra l'economy e la prima classe? Che in prima classe paghi anche due, tre, quattro, cinque volte di più l'economy. Qual è la differenza? Hai la seduta un po' più larga, un po' più comoda? Quando viaggi ti portano l'aperitivo e agli altri no, ti portano qualcosina in più da mangiare, ti chiudono la tendina in modo che tu non guardi quelli che sono in economy, che brutti quelli che sono in economy, no? È un po' ridicola la roba della prima classe. Lo fanno gli aerei per guadagnare di più, no? Poi quando tu passi per andare al tuo posto, io vado sempre in economy, ci mancherebbe altro che butto via i soldi, quelli che sono seduti in prima classe ti guardano così come dire, hai visto dove sono seduto? Tutto lo puoi permettere, no? Sono lì col bicchiere che ti, mentre tu passi sono lì così, dovete vedere, perché l'essere umano è proprio di livello molto basso, molto basso, uno degli animali più brutti della terra. Grazie a tutti e arrivederci a presto.